Buongiorno, il video di oggi tratta il tema dei tatuaggi e del piercing, ponendoli in relazione agli effetti che possono indurre tramite il sistema dei meridiani di agopuntura. Un tatuaggio è una decorazione cutanea definitiva, ottenuta nell'incidere la pelle ritardando nella cicatrizzazione o nell'eseguire punture con l'introduzione di sostanze coloranti nelle ferite. Un piercing consiste invece nella pratica di forare la cute per introdurvi metallo, pietra, osso o altro materiale. Piercing e tatuaggi sono pratiche antiche, preistoriche, legate a una visione naturale della vita e ha un impatto diretto del singolo con il trascendente. Con il subentrare invece di una gestione politica e religiosa del trascendente, piercing e tatuaggi, proprio per le loro caratteristiche, furono vietati. L'imperatore Costantino vietò piercing e tatuaggi nel 325 d.C. a tutti i suoi sudditi e fece subentrare il cristianesimo come una religione di Stato. Numerose le bolle papali successive che ripeterono il divieto di fare piercing o tatuaggi sul corpo dei sudditi. Tramite il divieto di piercing e tatuaggi, questi perdono un significato spirituale e curativo e acquisiscono gradualmente quello di trasgressivo. Questo culmina fino al saggio del medico Cesare Lombroso che mette in relazione la pratica del piercing e dei tatuaggi con la delinquenza. Questo sarebbe un marcatore di un soggetto incline a delinquere. In ebbiamo che moderna si assiste a un'ulteriore decadenza culturale in relazione a piercing e tatuaggi, essi perdono addirittura il merito di essere vietati. Il piercing e i tatuaggi assumono un ruolo assolutamente estetico e costituiscono un arredamento della cute. Nonostante tutti questi terribili equivoci in relazione al tema, l'origine del piercing e dei tatuaggi resta spirituale e curativa. Qui nel disegno vedete una rappresentazione della mummia del Similaun. Si tratta di un uomo dell'età del bronzo, vissuto circa 7000 anni avanti Cristo, dunque prima di un'organizzazione politica e religiosa della vita umana. Ebbene questa mummia del Similaun, che appartiene a un altro dignitario, probabilmente a uno sciamano, è ricoperta di tatuaggi che certamente non hanno un ruolo estetico, ma hanno un ruolo importante nella cura delle malattie e nell'elevazione spirituale del soggetto che li ha. Il significato originale e autentico dunque di piercing e tatuaggi è decodificabile con conoscenze relative alla medicina tradizionale cinese, in particolare sono utili i punti di acopuntura e il percorso dei meridiani. Il piercing infatti si comporta come un ago di acopuntura permanente, ovvero un metallo in un zonide cutaneo. Il tatuaggio si comporta come gli esiti di una moxa terapeutica, ovvero la combustione di artemisia su punti di acopuntura. Lì la cute viene infiammata e residua in segno. L'agopuntura e la moxibustione sono pratiche che evidenziano una relazione tra stimolo della cute e risposta curativa. In questa slide vedete due piercing, quelli cerchiati in rosso evidenziano un'interferenza con il meridiano di stomaco. Quelli cerchiati in verde evidenziano un'interferenza con il meridiano dell'endocrino. Vedete qui il percorso sul volto del meridiano cerchiato in verde. Nella foto qui esposta osservate l'interferenza del piercing praticato con il meridiano di vescica urinaria. Praticamente lo doppia esattamente. Interazione o interferenza con un meridiano non significa necessariamente che questa è positiva o negativa. Occorre valutare la situazione del singolo. Esattamente come un protocollo di acopuntura non è adatto a tutti, altrettanto un tatuaggio o un piercing. Questo invece sicuramente è un piercing negativo. È chiamato interazione incoerente. La signorina in oggetto stimola troppi punti e troppi meridiani contemporaneamente per trarne un beneficio. Se poi decide di fare una telefonata col cellulare, l'esposizione del volto a campi elettromagnetici esalta, esaspera, questa interazione incoerente. Il senso originale di piercing e tatuaggi si è perso purtroppo con la scomparsa delle culture antiche dal quale proviene e può essere recuperato solo tramite la conoscenza delle stesse. Al mondo antico appartiene la medicina tradizionale cinese e l'agopuntura. Esse ci possono aiutare a capire come dovrebbe funzionare un piercing, un tatuaggio. L'agopuntura è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una terapia valida, questo dal 1979. In Italia l'agopuntura è atto medico dal 1984. L'UNESCO ha definito l'agopuntura e la medicina tradizionale cinese nel 2013 come un patrimonio culturale dell'umanità. Bene, siamo arrivati alla fine del video di oggi, spero vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. A presto, usciranno altri video spero con argomenti interessanti e quindi conto di rivedervi presto. Grazie e alla prossima!